Ciao a tutti cari amici di noi stranieri e benvenuti in un nuovo video, anzi video guida, in cui vi spiegherò tutte le caratteristiche di un estratto contributivo IMSS e come ottenerlo, che voi siate dipendenti, liberi, professionisti oppure commercianti. Allora, anzitutto, l'estratto contributivo IMSS è un documento che raccoglie tutti i contributi lavorativi versati attualmente. L'IMS provvede ad aggiornare il documento entro un paio di mesi dal versamento dei contributi da parte del datore di lavoro. Ce ne sono di vari tipi, ECI, ovvero Estratto Conto Integrativo, che contiene tutti i contributi della vita lavorativa, la gestione separata che è dedicata al versamento contributi dei liberi professionisti, inclusi i venditori a domicilio, i lavoratori a progetto e quelli che possiedono un contratto di collaborazione, e infine il modello EcoCert dedicato ai cittadini prossimi alla pensione, che ha anche un valore legale. Ciò che contiene nell'estratto contributivo IMSS sono tutti i dati all'interno di una tabella piuttosto semplice da leggere. Troverai tutti i tuoi contributi versati suddivisi per periodo di appartenenza, categoria, ovvero lavoro dipendente, autonomo o a collaborazione, e retribuzione e anche riferimenti alle aziende che hanno versato i contributi. È possibile trovare anche eventuali note a margine e contributi poi versati a tuo favore. Se possiedi un account registrato sul portale IMSS, puoi richiedere il tuo estratto contributivo direttamente online, sia da smartphone sia da pc. In alternativa puoi telefonare il call center IMSS al numero 803164 oppure 06164164. Da cellulare potrebbero essere applicati dei costi, ovviamente in base al tuo gestore. Come terza opzione puoi anche recarti presso il padronato più vicino della tua città. Devi portare con te un documento di identità, il codice fiscale e dei contatti telefonici. Successivamente il padronato inoltre ha una richiesta per te all'IMS che ti invierà tramite mail oppure ti fornirà cartaceo il tuo documento contributivo. L'estratto conto può essere richiesto solo dal titolare dei dati. Se necessario il titolare può comunque delegare al ritiro una persona di fiducia. All'interno della nostra pagina potrai trovare e scaricare in formato pdf la delga per la richiesta di ritiro. Ovviamente senza dimenticare una copia a fronte retro del tuo documento d'identità. Se però noti la mancanza di contributi all'interno del tuo estratto conto devi fare una segnalazione contributiva. I metodi di segnalazione sono online tramite il portale IMPS, chiamando il call center IMPS oppure chiedendo assistenza a un padronato. È importante allegare prove per dimostrare la mancanza dei contributi, ad esempio mostrando le busta paga che non risultano nel documento. Dopo la segnalazione l'IMPS provvede a risolvere il problema. Se è stato uno sbaglio dell'istituto il documento contributivo viene semplicemente aggiornato e si risolve la questione. Se invece il datore di lavoro in questione non ha versato i contributi che ti spettano devi rivolgerti a un legale. Puoi in questo modo richiedere il riscatto dei periodi scoperti e un eventuale risarcimento se i contributi mancanti ti hanno regato danno. Devi portare con te una dimostrazione dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua durata e della retribuzione. Oppure una rendita vitalizia ovvero il pagamento della pensione corrispondente ai contributi mancanti. Per avere maggiori dettagli sull'estratto contro contributivo IMPS puoi sempre rivolgerti a un padronato o chiarire tutti i tuoi tubi tramite il consente IMPS dalle 8 alle 20. Ovviamente potete visitare anche il nostro sito noestranieri.com ma nel frattempo se vi è piaciuto lasciate un like al video, commentate e condividetelo. Io al solito vi ringrazio tantissimo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.